Sareggio in un condominio dove Francesco Viglio, un 73enne originario del Vibonese nel Bellaria Residence di Bugani in Canada ha aperto il fuoco uccidendo 5 persone per poi essere freddato dalla polizia che stava provando ad arrestarlo. Originario di Vazzano nella provincia di Vibo Valencia, Viglio aveva lasciato la Calabria quando aveva 17 anni. L'uomo che viveva nel palazzo dove ha compiuto gli omicidi e da tempo si lamentava per abusi e torture che diceva di subire continuamente. Le vittime sono tre uomini e due donne raggiunte da colpi di pistola in tre appartamenti e piani diversi della colonna B del condominio a nord di Toronto. Tre di loro sarebbero membri del consiglio condominiale. A presto! A presto! Frivare! Vittime? Grazie a tutti.